Sono con Francesco Cosentino qui dell'associazione Amici di Astor Piazzolla, qui c'è un best seller che vi propone una vita dedicata alla musica, per la musica. Franco vuoi dire qualcosa agli amici? Sono contento che abbia scelto la nostra associazione, questo grande gruppo editoriale, con la scrittrice Maria Susana Zzi, naturalmente italo-argentina. Quindi Trani, come è la Toscana, possiamo dire che Trani ha fatto ben poco per il riconoscimento del maestro Astor Piazzolla, di cui ricordiamo una targa posta nella villa comunale, piazzale della Musea Astor Piazzolla. Da noi, voluto da anni e grazie all'amministrazione, abbiamo ottenuto questa targa, quindi possiamo dire che possiamo anche iniziare un gemellaggio con la città della Toscana, dei noni materni di Astor Piazzolla. Dove possiamo prendere questo libro? Come possiamo recuperare questo best seller? Ecco, diciamo che l'edicola di Lino Ulisse, e tutti conoscono Piazza della Repubblica, possono eventualmente prenotare presso lo stesso Lino e passeremo noi dopo eventualmente a lasciare queste copie a chi ne volesse desiderio di riceverle una. Bene, comunque c'è un gruppo, un'associazione, un gruppo Facebook che possono vedere, ha un nome sicuramente, potete... C'è un'associazione Amici della Musica Astor Piazzolla, Trani, abbiamo il sito su Facebook. A presto, ci sarà anche una segreteria, attenzione, a presto, cresciamo, si cresce. Comunque questo libro, ricordate, è un best seller, parla della grande vita per la musica di Astor Piazzolla. Grazie Francesco. Grazie a te Vittorio. A voi. Grazie, grazie.